nuovo video shorts quindi nuova anteprima anche se li avevamo già visti nella diretta nel prossimo video tutorial vedremo come realizzare queste collane torsion il torsion non è fisso la collana si può riaprire o richiudere creando degli effetti davvero molto particolari un effetto ramificato quando è più chiusa e dunque un effetto più sciolto quando invece il torsion viene riaperto come in questo caso è sempre la stessa collana ma come vedete cambiando i colori cambiando i materiali mescolando cristalli e perle di colori e di dimensioni diverse si possono ottenere tante collane tutte diverse tra di loro tutte molto originali soprattutto tutte perfette per i nostri outfit quindi non perdete il prossimo video tutorial io come sempre vi aspetto sul canale